Cassa integrazione dipendenti dell'artigianato, finalmente accreditati 516,3 milioni a FSVA. La strategia industriale europea valorizzi gli artigiani e le piccole imprese. Stanziati 122 milioni per il rinnovo dei TIR, accolte richieste di confartigianato trasporti. Moda made in Italy, a settembre la nuova edizione di White Milano. Il 23 luglio sono stati accreditati al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato 516,3 milioni per le prestazioni di sostegno al reddito dei dipendenti delle imprese artigiane in sospensione dal lavoro per Covid-19. Sono pertanto nella disponibilità di FSBA tutte le risorse stanziate dal decreto rilancio in favore del Fondo, che ora proseguirà con l'erogazione delle prestazioni già avviata per i mesi di febbraio e marzo. Il trasferimento delle risorse a FSBA era atteso da oltre due mesi, ripetutamente sollecitato da confartigianato. La strategia industriale europea deve essere l'occasione per realizzare le riforme che consentano al sistema imprenditoriale italiano di dispiegare le proprie potenzialità, puntando su valorizzazione del ruolo strategico degli artigiani e delle micro e piccole imprese, qualità manifatturiera, digitalizzazione, sostenibilità ambientale, un'economia più circolare che valorizzi i beni durevoli e riparabili. Lo hanno chiesto i rappresentanti di confartigianato, intervenuti il 21 luglio, all'audizione svoltasi alla Commissione Attività Produttive della Camera sul pacchetto UE la nuova strategia industriale europea. Il Ministero dei Trasporti ha stanziato 122 milioni di euro di contributi per il biennio 2020-2021 a sostegno degli investimenti delle imprese di autotrasporto nel rinnovo dei mezzi. Con questo provvedimento, sottolinea il presidente di confartigianato trasporti Amedeo Genedani, la ministra Paola De Micheli recepisce le nostre proposte per un autotrasporto merci sicuro, competitivo, meno inquinante e più efficiente. Finalmente vediamo realizzare la richiesta di un fondo per il rinnovo delle flotte, per favorire la svolta green dell'autotrasporto. Continua la partnership tra confartigianato e il Salone White di Milano, la vetrina internazionale della moda contemporanea. Dal 24 al 27 settembre, nel capoluogo Lombardo, si svolgerà una nuova edizione della manifestazione, che presenterà un inedito progetto dedicato alle imprese a valore artigiano. Particolari condizioni di favore saranno riservate alle imprese di confartigianato che parteciperanno fisicamente e per i piccoli imprenditori della moda Made in Italy sarà anche possibile essere inseriti gratuitamente sulla piattaforma virtuale B2B di White attiva tutto l'anno.